ciao ragazzi bentornati su best your life e bentornati a questo nuovo video che andrà a risolvere un mistero come dice ruggieri molto presente nella vita di tutti i bassisti capita molto spesso poi datemi conferma ovvero quante volte vi è successo di trovarvi magari in un negozio in una saletta prove in qualsiasi luogo con lo strumento in mano che vi state facendo bellamente i fatti vostri e arriva il tipico diciamo passante o collega o musicista di turno che ti fa dai fammi sentire qualcosa e in quel momento scatta il panico di adesso cosa faccio bene quindi chiariamo come risolvere questo problema ma subito dopo la sigla bene ragazzi quante volte veramente vi è successo che voi siete lì magari in un angolo anche in un negozio e avete visto uno strumento che vi piace lo volete provare già nella prima fase diciamo soprattutto quando si ha le prime armi si va un po in difficoltà perché uno prende uno strumento in mano e dice adesso cosa suono cioè nel senso io non so suonare da solo io sono abituato a suonare con gli altri sono più abituato a seguire quello che fa la batteria o la chitarra e quindi mi diciamo mi metto in scia e suono quello che c'è da suonare che magari una particina del basso eccetera eccetera quindi il fatto già di dover suonare scoperti senza l'apporto di un batterista di un chitarrista diventa già un problema e quella cosa già ci mette ansia ci mette tensione tanto è vero che spesso rinunciamo anche soprattutto se ci sono altre persone in giro a provare uno strumento perché appunto ci sentiamo in difficoltà e la prima cosa da da chiarire è che quando noi proviamo uno strumento tendenzialmente non stiamo facendo un'esibizione quindi non dobbiamo rendere conto a nessuno se non a noi stessi dobbiamo provare uno strumento perché magari ci piace perché magari vogliamo capire come suona vogliamo capire i controlli come agisce l'elettronica se c'è un elettronico o meno com'è il comfort dello strumento a volte passano delle scale o possono bastare degli arpeggi o bastano anche semplicemente dei groove e già mi rendo conto di come può suonare lo strumento io dal mio piccolo punto di vista tante volte simulo dentro di me quello che potrebbe essere una parte fatta da un groove di batteria anche se mi dice ok e quindi magari mi comincio a immedesimare in una situazione dal vivo comunque sia di prova e testo il mio strumento naturalmente in questo caso se faccio un riff poi cerco di immaginare anche gli accordi e immagino un groove con una parte che gira e lì inizio a suonare quindi posso decidere anche di suonare e suono diverse diciamo cosettine in base a quello che mi interessa questo naturalmente se sto provando uno strumento naturalmente non è l'unico test che faccio quindi cerco di capire innanzitutto come è il feeling sulla tastiera e come mi trovo poi cerco di capire naturalmente quali sono le caratteristiche quindi sustain se ne ha cerco di capire appunto come lavorare l'elettronica taglio aumento sposto faccio brigo e lo faccio in maniera molto serena perché appunto non è un'esibizione non è miller che fa quindi non devo intrattenere nessuno mentre sto facendo questa cosa qui questa consapevolezza che è arrivata successivamente degli anni mi ha finalmente tolto dall'impiccio di dover prendere uno strumento e come passava qualcuno quindi mi guardavo in giro cercando di capire che non ci fosse nessuno nei paraggi provarlo appunto con la massima serenità perché è una cosa che dà molto fastidio c'è da molto fastidio soprattutto se non si ha la tranquillità la serenità di poter prendere uno strumento e fare anche una cagata nel senso che non è detto che io debba fare debba suonare per forza perfettamente qualcosa quindi cominciamo innanzitutto a abbandonare l'idea di doverci esibire di fronte a qualcuno ok il che può viaggiare anche in un diciamo in una linea parallela ovvero se provate uno strumento non dovete fare l'esibizione per forza ovvero non mi serve non mi serve il diciamo il concettualista che si suona tutta la suite di Bach perché l'ha suonata fino a due ore prima a casa e ha voglia di farmela sentire a me se nel senso io apprezzo quando magari mi trovo anche ad ascoltare qualcuno che prova uno strumento il fatto di sentire come suona lo strumento e lo posso sentire in tante diciamo in tante sfaccettature appena noto che c'è il classico musicista che cerca un po' di attenzione tipo lo sleppatore sediare sta lì a fare gara a chi fa più note eccetera eccetera a chi dà più colpi già l'attenzione cala e passo oltre quindi attenzione in entrambi i casi non è un'esibizione quindi vivetela tranquillamente e non la fate diventare un'esibizione perché non interessa a nessuno sostanzialmente può interessare anche a voi ma se siete talmente concentrati nelle esecuzioni spesso non apprezzate quello che potrebbe essere la caratteristica dello strumento quindi cominciate praticamente a viverla più serenamente possibile e quindi tralasciate l'idea dell'esibizione e invece per quanto riguarda la prova dello strumento concentratevi su quello che vi risulta naturale a volte anche provare un giro tipo se dovete provare il feeling di uno strumento quindi come vi trovate è indispensabile che voi lo suoniate e vi mettiate anche nella condizione più standard possibile quindi di rifare magari cose che voi già fate naturalmente non vi dico di suonare Smoke on the Water ok? che può anche andare bene per carità però immaginate di accompagnare un brano e quindi di creare una linea di basso e di vedere come vi trovate con lo strumento in mano ok? se avete praticità magari provate a fare degli accordi ok? sentite come suonano gli armonici potete fare tante cose spostate il posizionamento dei pick up per capire appunto un accenno di Pastorius non fate tutta la suite perché è un po' come suonare Starway to Heaven per i chitarristi quando vanno in negozio quindi possibilmente da evitare come cosa al di là di questo quindi provate lo strumento fate delle scale vedete come vi trovate nel planning appunto ed è la cosa più semplice e più naturale da fare quindi tralasciate l'esibizione provate uno strumento semplicemente suonando quello che vi viene da suonare e che siete abituati a suonare se c'è la possibilità di suonare con qualcun altro che sia un batterista o un chitarrista chiedetegli anche guarda suoniamo insieme che suoniamo un blues ok? non perché il blues sia la cosa più semplice di suonare anzi però è quella che ha la struttura armonica più semplice quindi è anche più semplice trovarsi in due a portare avanti un brano del genere senza aver l'ansia di risultare scontati fai suoniamo un blues e allora sentite da lontano la voce che due palle classico blues e no cioè nel senso allora vieni tu mi fai giant steps in due e allora io ti guardo sono lì che ti fisso e aspetto che metti la nota sbagliata ok? quindi state sereni da questo punto di vista se avete uno strumento che vi piace provatelo provate e cercate di capire i suoni che ha lo strumento cercate di capire come vi trovate con quello strumento in mano e fregatevene di qualsiasi passante e di qualsiasi richiesta del tipo dai suonami qualcosa ok? perché non è lo strumento adatto se avessi suonato il piano magari mentre lo provavo ti accompagnavo una canzone e lo facevo ma il basso elettico richiede diciamo in quel senso il fatto di fare dei pezzi da solo un'abilità tecnica molto avanzata e non è per tutti e non è detto che tutti la debbano avere quindi semplicemente suonate quello che vi piace suonate un groove suonate un riff suonate quello che volete suonate quello che siete abituati a fare ma senza avere la pretesa di dover intrattenere nessuno né tantomeno di dover rispondere a delle domande di tipo allora che ne pensi? qui la nota muore eccetera eccetera ho fatto guarda io personalmente mi ci trovo bene mi piace apposto così se vuoi provalo tu e poi me lo dici ok? quando avete fatto così avete già risolto qualsiasi tipo di problema bene ragazzi con questo semplice video breve video e anche un video un po' di protesta contro tutte quelle persone che ci scassano i maroni quando abbiamo uno strumento in mano invece a noi basterebbe semplicemente suonarcela un po' per conto nostro spero di aver risolto un dubbio che riguarda molti bassisti e che è riguardato anche me in passato quindi non è una cosa così allucinante anzi succede molto spesso quindi detto questo non mi resta quindi che salutarvi e augurarvi buone note senza rotture di maroni a tutti quanti e come dico sempre ragazzi a presto e bello ciao a tutti